La Cappella Sistina, un'impresa titanica. Dove siamo? Osservate questa città, la riconoscete? Siamo a Roma. Più precisamente nella città del Vaticano, con la Basilica di San Pietro. A fianco, un po' nascosta, c'è la Cappella Sistina. Qui viene ospitato il conclave per eleggere il Papa. La storia della Cappella Sistina La Cappella Sistina è stata costruita nel Medioevo. Nel 1477 Papa Sisto IV fa restaurare l'edificio, ormai rovinato, e nel 1481 ne ordina la decorazione interna. Per farlo, chiama i migliori artisti dell'epoca, tra i quali Botticelli. Sono loro ad affrescare le due pareti maggiori della Cappella con storie del Vecchio e del Nuovo Testamento. Ecco un'antica stampa che mostra la sistemazione della Cappella nel 1483. Con il passare degli anni, i cedimenti e le frane del Colle Vaticano aprono profonde crepe sulla volta, che allora era decorata con un cielo stellato. Nel 1504 il nipote di Sisto IV, Papa Giulio II, decide di restaurare il soffitto e rendere di nuovo agibile la Cappella, caduta ormai in disuso. Il nuovo Papa, qui ritratto da Raffaello, voleva rendere questo luogo il simbolo del potere pontificio. L'intervento di Michelangelo Giulio II convoca Michelangelo Buonarroti per affidargli l'incarico di affrescare la volta della Cappella restaurata. Michelangelo, all'epoca, è già un artista affermato alla corte di Giulio II, ma come scultore e non come pittore. Sta infatti lavorando ad alcune statue per la futura tomba monumentale del Papa. Dopo molte perplessità, Michelangelo accetta l'enorme impresa. Pensate che la volta ha una superficie di circa 500 metri quadrati. Nel 1508 inizia l'opera. Il Papa, in principio, pensava di affrescare solo i dodici apostoli sul perimetro della volta, ma Michelangelo lo convince a sostituire il progetto iniziale con un tema molto più ampio, la storia dell'umanità prima dei Dieci Comandamenti. L'iconografia degli affreschi di Michelangelo Guardate la volta della Cappella dipinta da Michelangelo. Potete scorgere moltissime figure, addirittura più di 300. E se osservate attentamente, potete vedere che formano un ciclo di storie che già conoscete. Sapete indovinare di quali storie si tratta? Storie di Gesù? Storie della Genesi e di Noè? Storie di Giulio II? Sull'asse centrale della volta, Michelangelo rappresenta nove scene tratte dalla Genesi, relative alla creazione e alle vicende di Noè. Dal basso verso l'alto, Dio separa la luce dalle tenebre. Dio crea il sole, la luna e la terra. Dio separa la terra dalle acque. Creazione di Adamo Creazione di Eva Peccato originale e cacciata dal paradiso terrestre. Sacrificio di Noè Diluvio universale Ebbrezza di Noè Ma il ciclo non si esaurisce qui. Accanto ai riquadri più piccoli, l'artista ha inserito coppie di uomini nudi che tengono scudi dorati e istoriati con scene bibliche. Tutto attorno, su dodici troni, ci sono sette profeti e cinque sibille, che sono i veggenti. Nelle lunette e nelle relative vele sono rappresentati gli antenati di Cristo, così come vengono elencati nel Vangelo di Matteo. Nei quattro pennacchi d'angolo sono rappresentati episodi dell'Antico Testamento in cui Dio ha soccorso il suo popolo. Michelangelo ha disposto questa complessa decorazione entro una cornice dipinta che sembra una vera architettura. La tecnica di lavoro Secondo voi, può un artista da solo aver dipinto tutto questo? Sì? No? Ebbene sì! Probabilmente fino al 1509 alcuni collaboratori aiutarono il maestro nella realizzazione degli elementi decorativi, ma non nelle figure. Da questa data in poi, però, lavorò da solo, portando a termine la grandiosa impresa in soli tre anni. Michelangelo dovette risolvere innanzitutto un problema pratico. Come poteva dipingere la volta senza interferire con le funzioni religiose che si svolgevano nella cappella? La soluzione fu trovata costruendo un ponteggio mobile sospeso in alto che lasciava libero lo spazio sottostante. Lassù, Michelangelo passava intere giornate in uno spazio ristretto, disteso sul ponteggio per guardare il soffitto. Trasferiva sul muro i disegni preparati su grandi cartoni e poi dipingeva ad affresco. A volte, per accelerare i tempi, dipingeva direttamente sulla volta, senza alcun disegno preparatorio. Lo stile di Michelangelo Michelangelo inserisce nelle scene pochissimi richiami all'ambiente in cui si svolgono gli eventi. La sua attenzione si rivolge soprattutto alle figure. Osservate le singole figure. Sono esili e allungate? Sono monumentali e possenti? Le figure dipinte da Michelangelo sono monumentali e possenti. Sembrano sculture modellate dal chiaroscuro. La loro anatomia si rivela, disegnata dalla luce, come nei marmi di Lisippo e Apollonio, gli scultori dell'antica Grecia ai quali l'artista sembra essersi ispirato. Per l'uso che fa del chiaroscuro, per la solidità che dà alle figure, Michelangelo mostra di aver studiato anche i grandi maestri del 300 e del 400. Quali artisti ha studiato? Giotto o Simone Martini? Botticelli o Masaccio? Ha certamente conosciuto le opere di Giotto e Masaccio. Rispetto a quei maestri, Michelangelo apporta grandi novità. Guardate le pose dei nudi. Sono semplici e regolari? Sono complesse e articolate? Sono complesse e articolate. Come nelle sculture, anche nei dipinti Michelangelo rappresenta i corpi usando strutture compositive dinamiche, spesso serpentinate, dando così l'impressione che anche figure alte più di 3 metri, come le Sibille, stiano per muoversi. Osservate anche gli abiti delle Sibille. Di che colori sono le ombre? Grigie. Colorate. Le ombre sono colorate. Gli accostamenti cromatici inaspettati avvicinano tra loro tinte complementari estremamente luminose. La fama della Cappella Sistina. Osservando bene, si può vedere che la volta della Cappella Sistina non è una rappresentazione naturalistica, come può apparire a prima vista. Lo spazio non è unificato in una visione prospettica unitaria, come sarebbe accaduto in un dipinto del Quattrocento. L'ambiente naturale non è realistico, come nella contemporanea pittura veneta. Anche la luce non è naturalistica, ma è forte e direzionata in modo da mettere in evidenza le forme e i colori, anch'essi inventati, brillanti e contrastati, metallici e cangianti. La volta della Cappella Sistina è una visione mentale, una potente raffigurazione di idee filosofiche assolute, come la creazione, il peccato originale o le figure dei veggenti, dove non prevale mai il semplice piacere della percezione visiva. Per questo è una delle opere più importanti della storia dell'arte ed è stata per molti secoli un modello insuperato. Grazie. 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 Grazie.